No, Presidente, sinceramente non capisco perché è espulso dall'Aula un consigliere del Movimento 5 Stelle, della maggioranza. Non mi sembra che ha fatto nulla di male il consigliere in Aula. Ha semplicemente detto ciò che è accaduto oggi, ovvero che la Regione ha inserito nel proprio piano rifiuti, nell'ideguida, la necessità di fare una discarica a Roma. E per noi questo è vergognoso, è vergognoso, Presidente, è giusto che tutti i cittadini lo sappiano, è giusto che tutti i cittadini lo sappiano, la seduta è spesa.